Musica E' dall'unione tra Arezzo e Fiesole che nasce la Casa della Musica, che troverà la sua collocazione al primo piano di Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo, nello stesso edificio in cui, tra l'altro, alcune settimane fa è stato inaugurato il Museo dei Tesori. E' stato infatti sottoscritto dal Comune di Arezzo e dalla Scuola di Alta Formazione un accordo per la sua apertura. Nasce una scuola di alta formazione musicale, mai stata presente ad Arezzo fino ad oggi, che negli effetti fornisce sostanzialmente il tipo di preparazione di tipo conservatoriale. Le attività che svolgerà verranno rese note successivamente in una conferenza stampa alla quale parteciperanno ovviamente anche il direttore della scuola di Fiesole, il sindaco di Fiesole e ci renderanno edotti di qual è il programma culturale, didattico e divulgativo della musica che intendono proporre. Quello che conta è che abbiamo un partner da questa mattina, abbiamo un partner definito di grande rilevanza culturale in ambito musicale e siamo contenti che questo completi un percorso che riguarda il Palazzo di Fraternita che ha già a piano terra il Museo dell'Oro e ora a primo piano Arezzo Città della Musica. Quindi le due grandi specificità del nostro territorio e quindi l'oreficeria declinata nella sua forma più bella, quella artistica, il Museo dell'Oro, quindi l'Oro d'Autore e a primo piano la musica, la grande musica di tipo conservatoriale che ci garantisce la scuola di Fiesole. Nei prossimi giorni la prestigiosa scuola fiesolana si insedierà ad Arezzo che potrà così diventare punto di riferimento a livello nazionale per la formazione musicale di qualità. Nel programma che Fiesole ha proposto e che fa parte oggi del programma di collaborazione c'è la valorizzazione di tutto ciò che già si muove in questa città perché è importante dal polifonico all'Organ Festival e da molte altre iniziative che da anni esistono in questa città mancava però il segmento dell'alta formazione professionale da un punto di vista musicale e oggi c'è.